questo ospedale non sa da fare né mo né mai così mutuando un'espressione del manzoni con riferimento al matrimonio tra renzo e lucia bene questo ospedale il san cataldo di taranto il costruendo san cataldo di taranto sembra non debba avere mai completamento conclusione infatti i lavori sono sospesi e la sospensione durerà comporterà un ritardo durerà almeno quattro mesi ormai i ritardi del san cataldo circa il completamento si susseguono di mese di mesi in quando sta per arrivare la data l'intoppo e si rinvia si rinvia si rinvia chissà se verrà mai completata prima la sagrada famiglia di barcellona o il san cataldo di taranto e qui governo e regione incapaci sia nel centro destra sia nel centro sinistra incapace il governo incapace la regione si rimbalzano le responsabilità perché la regione dice caro governo tu non hai stanziato o non hai stanziato ancora i 105 milioni di euro o meglio non è completata tutta la procedura per lo stanziamento dei 105 milioni di euro necessari per gli arredi e quant'altro perché non si tratta soltanto di creare la struttura muraria ma le singole strutture murarie devono essere appunto finalizzate ovviamente alle varie alle varie proprio strutture sanitarie attrezzature sanitarie che vengono allocate penso per esempio che so io all'area per la tac per la risonanza e quant'altro quindi il governo non ha ancora completato lo stanziamento di questi 105 milioni di euro la regione quindi rimprovera il governo ma parimenti manca da parte della regione il cofinanziamento regionale appunto di 5 milioni di euro e allora si gioca a ping pong il governo dice tu regione non hai stanziato i 5 milioni e la regione continua a giocare a ping pong e dice tu governo non hai stanziato i 105 milioni di euro e al centro la pallina di ping pong è rappresentata dal cittadino tarantino contribuente che non che vive dovrà che assiste passivamente a queste chiacchiere che vengono raccontate e dal governo e dalla regione e dal sindaco melucci il quale in campagna elettorale tuttora strombazza questo san cataldo abbiamo visto consiglieri regionali come di gregorio che santificavano che erano felici per questo imminente completamento dei lavori poi stop stop and go stop and go solo che qua sono più gli stop che i go guardate l'insegna lavori di realizzazione del nuovo ospedale san cataldo di taranto inizio lavori 22 12 2020 fine lavori ovviamente si mette adesivo su adesivo perché i rinvii si susseguono ora l'ultima data era 31 7 2023 che slitterà ancora e quindi vedete un altro adesivo adesivi su adesivi ci fate solamente ridere anzi piangere c'è poco da ridere insomma per capirci smettiamola per favore con queste pagliacciate lo dico alla regione lo dico al governo lo dico al centrodestra lo dico al centrosinistra ecco perché poi dico non è qualunquismo ma centrodestra e centrosinistra finiscono per essere uguali finiscono per essere due facce di una stessa medaglia che prende per il culo il cittadino e in questo caso si stanno prendendo per il culo i malati di taranto la popolazione sofferente di taranto quando invece per taranto a causa dei disastri ambientali si sarebbe dovuta aprire un'autostrada una corsia privilegiata affinché noi tarantini potessimo curarci ma ci rendiamo conto ecco la grande incompiuta e le chiacchiere che vengono dal centrodestra e dal centrosinistra poi non vi lamentate che la gente non va più a votare ecco perché io sono civico trasversale agli schieramenti